Luca Vencato, play della Feli Farma, venca domenica torniamo in trasferta, una partita sicuramente molto complicata anche per via di nostre situazioni fisiche un po' ancora in dubbio, che partiti aspetti a Pallaruggi? Assolutamente, sarà una partita molto difficile perché Imola è un campo molto ostico per tutti, dovremmo dare una gran prova di maturità perché giochiamo contro una squadra che è in netta ripresa rispetto all'inizio del campionato e che fa delle Pallaruggi e proprio fortino come noi a Ferrara. Noi non siamo in perfette condizioni fisiche, però non cerchiamo alibi, il nostro obiettivo è quello di riprendere con una discretta striscia di vittorie dopo i due stop nelle scorse due giornate esterne e soprattutto come abbiamo già detto in precedenza, vincere in casa è importante, vince in trasferta a fronte al doppio, quindi per noi sarà una partita fondamentale. Loro è un mix di esperienza e gioventù, una squadra che in casa sicuramente si trasforma ma che è capace anche di colpi esterni, quali sono i pericoli principali di questa Imola? Sicuramente i due americani, Morse con cui ho giocato l'anno scorso e Bowers che è definito da tutti ormai un professore perché ha la capacità di fare la scelta giusta e il momento giusto senza mai sbagliare. Quindi sicuramente limitare i loro due, soprattutto l'impeto fisico di Morse nel pick and roll, nei rimbalzi, come penso sia uno dei primi di tutta la Serie 2, sarà fondamentale. Intorno loro c'è un gruppo di italiani esperti come Fulzo e Masciadri, molto pericolosi, e dei giovani che stanno dimostrando di essere importanti per la propria squadra. Quindi dovremmo fare una partita molto attenta e dovremmo cercare, nonostante saremo in trasferta, di imporre comunque il nostro ritmo e la nostra idea di gioco durante tutta la partita. Bene, ringraziamo Luca Vencato, Play della Felifarma Ferrara.